Buongiorno, sono Tino Matteo, ho 19 anni e mi voto di un giorno. Frequento il corso di FTS presso CAPAC, Politecnico del Commercio e del Turismo, dove l'anno scorso mi sono diplomato come tecnico dei servizi di sale e bar. Ho lavorato presso le mie importanti del settore, come il Gran Italiano, il ristorante Giannino, il Gambero Rosso ed altri. Grazie alla scuola ho avuto la possibilità di fare degli stagio presso strutture importanti del settore. Ho vinto anche una borsa di studio per andare a Nizza al ristorante La Ponta Adamo. Amo fare il mio lavoro perché mi piace mettermi in gioco, far attrezzare i miei lavori e i miei clienti, e informare le persone che c'erano di bella responsabilità. Hi everybody, my name is Matteo Pina, I'm 19 years old and I live in Oligio, Italy. I'm attending at the FTS course at CAPAC, Politecnico del Commercio e del Turismo, a modern school in Milena. I got my degree last year as a tecnico dei servizi di sale e bar. I've been working in training in several important structures, such as Gran Italetti Milan, Gambero Rosso, Giannino Ressore, and others. They gave me the opportunity to develop my skills in a summer internship. I also went to Nizza last summer for a internship at La Ponta Adamo. I chose the lunch bar sector, because for me it's important to get comfortable, clean, smart, close to a place and has to get people relaxed when they go out for drinking. I'd like to be a terminal drinking responsibly. I never even know where I know where I think my skills are. It's still the same.. I love this... BTS EDIT 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 I Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.